E... Buongiorno ragazzi! Quanto appena adesso il mio nuovo video? Oggi ragazzi è il 30 giugno Siamo almeno Due giorni e mezzo Al 3 luglio Che ci sarà un anno di Youtube Oggi è il 30 di giugno Andiamo a fare una passata in bicicletta Una gita senza senso In bicicletta parte 3 o 4 gita senza senso E niente ragazzi partiamo 3 Quanto appena a fare una passata in bicicletta? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti